Sicuramente i bambini sono coloro che se ben indirizzati potranno salvare veramente questo mondo e lo faranno soltanto se noi adulti saremo in grado di dare loro un esempio importante proprio sul fronte del rispetto innanzitutto della persona, quindi dell'altro ma anche del nostro ambiente. Da qui sappiamo derivano un po' di problemi che stiamo attraversando, se questo messaggio potrà passare sono certa e sono ottimista su questo, appunto che il nostro mondo si salverà proprio grazie a questi bambini, a questi giovani. Filastrocche per un mondo nuovo, un mondo migliore per tutti. Sono le filastrocche di Rossana Farini, giornalista casentinese, racchiusa adesso in un libro per bambini ma che allarga la visione delle cose anche ai più grandi. Un libro magico dunque nato nei giorni del primo lockdown. Un progetto che è nato appunto durante il primo lockdown in casa con i miei figli è nato dall'esigenza sicuramente di offrire appunto ai miei bambini un'occasione di riflessione ma anche per fare qualcosa in un momento dove loro effettivamente hanno sofferto tantissimo e continuano a soffrire. Quindi l'idea di scrivere ogni giorno una filastrocca su temi importanti che insomma cari comunque all'adolescenza ma anche all'infanzia come il bullismo ma anche il rispetto per l'ambiente, il rispetto per l'altro, la diversità e anche il covid ovviamente. L'unica cosa che è finito il lockdown, arrivata quest'estate che ci aveva dato insomma una speranza di uscire fuori da questo tunnel, queste filastrocca erano diventate tante e abbiamo deciso di metterle in un libro, di fare un libro. Il libro è stato finanziato da un'azienda importante del Casentino, Freschi Evangelisti, poi i proventi della vendita del libro sono andati alle scuole musicali del Casentino Bibbiena e Poppi per sostenere i loro progetti ma soprattutto i ragazzi e i bambini che volendo perseguire la passione della musica non possono farlo perché magari non possono comprare gli strumenti e quindi una bella soddisfazione proprio per questo.